Saggio di fine stagione della Società di Ginnastica Ritmica S.D.Nicla, sabato prossimo 8 giugno alle 21, al Palasport di Via 25 Aprile sul Mondo. This is it, il titolo della serata dedicata a Michael Jackson, prendendo il nome di uno dei suoi brani contenuto nell'omonimo documentario e pubblicato nel 2009 come prima canzone postuma del cantautore statunitense. A dieci anni dalla scomparsa del re del pop, la Nicla proverà a mettere in scena un tributo degno della sua bravura, ispirandosi alla musica e al movimento del più grande esponente in assoluto di queste arti. Al galà parteciperanno circa 50 atlete della Nicla e un gruppo di bambini di 3 anni impegnati nella disciplina della psicomotricità. Gli organizzatori invitano ad intervenire perché assicurano che sarà una serata diversa e anche interattiva coinvolgendo il pubblico. A disposizione delle famiglie ci saranno i fotografi per la stampa diretta delle foto dell'esibizione. Tutto questo sabato 8 giugno, dalle 21 al Palasport di Sumone in Via 25 Aprile. Grazie. 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 Grazie.